Salve, spero che stiate bene, mi chiamo Isabella ed è finalmente arrivato il momento di conoscere la verità su Indiva System prima di acquistare effettivamente il prodotto. Funziona davvero come tutti gli altri video riportano? In questa recensione onesta ho anche due avvertimenti molto importanti, quindi prestate molta attenzione a ciò che ho da dirvi. La prima cosa che dovete sapere sulla perdita di peso di Indiva System è, fate molta attenzione al sito web dove andrete ad acquistare Rock Keto, perché questo prodotto è venduto solo sul sito ufficiale e per aiutarvi ho lasciato il link al sito ufficiale qui sotto nella descrizione di questo video e l'ho messo nei commenti, è molto importante perdere peso in modo responsabile e per non farvi cadere nelle truffe ho deciso di condividere questo. Quindi, che cosa è Indiva System se funziona davvero? La risposta è sì, le capsule di Indiva System funzionano e dopo numerosi test di laboratorio, i ricercatori hanno identificato che Indiva System è uno stimolante che brucia i grassi e genera energia. Questo dovrebbe farvi sentire più in forma e più efficienti. Gli ingredienti naturali sono studiati per portare rapidamente il corpo in chetosi. Questo è l'unico modo per sbarazzarsi del grasso indesiderato. Indiva System è stato progettato per combattere l'accumulo di grasso indesiderato nel corpo e aiutarvi a raggiungere la forma e lo spessore desiderati, eliminandolo a tutti i costi. Come meccanismo d'azione, Indiva System porta rapidamente alla chetosi, che è il processo di cui il corpo ha bisogno per perdere peso. Naturalmente, si perdono chili in modo sano e senza doversi sottoporre a diete pesanti. Anche se esistono molte pillole dimagranti, molte delle quali sono un gioco a scopo di lucro, è chiaro che per perdere peso è necessario trattare la causa dell'obesità, ed è per questo che Indiva System è stato creato, per aiutarvi. Quindi sì, potete fidarvi di questo prodotto. Molte persone hanno ottenuto ottimi risultati con le capsule di Indiva System e anche voi potete ottenerli. Tuttavia, bisogna tenere presente che ogni persona reagisce in modo diverso. È un po' ovvio, ma ve lo dico perché possiate essere realistici riguardo al vostro trattamento e alle vostre aspettative. Indiva System è un ottimo soppressore dell'appetito e aiuta molto nelle malattie metaboliche, previene l'obesità, il diabete e le malattie cardiache. C'è qualcosa di veramente importante su questo prodotto che dovete sapere prima di acquistarlo, c'è completa fiducia nel fatto che Indiva System vi aiuterà, quindi l'email è disponibile sul sito ufficiale per eventuali reclami o per il rimborso, sentitevi sicuri che otterrete il vostro risultato o il vostro rimborso, dal momento in cui entrerete in contatto con il fornitore. Affinché il sistema Indiva funzioni è necessario prendere sul serio il trattamento. Utilizzare un massimo di due capsule al giorno, assumendo la dose raccomandata, in quantità limitate poiché una quantità eccessiva può influire negativamente sul vostro benessere. È possibile vedere i primi risultati entro il primo mese, ma la maggior parte delle persone ottiene risultati migliori dopo tre mesi di utilizzo di questo prodotto. È inoltre importante sapere che Indiva System non ha effetti collaterali perché è naturale. Ho quindi deciso di registrare questa recensione onesta, prima di tutto per dirvi di fare attenzione al sito web dove acquisterete Indiva System per farvi arrivare davvero il prodotto, quindi ho deciso di condividere il link nella descrizione e di fissarlo nei commenti, e inoltre, se acquistate il prodotto, fate il trattamento esatto. Ricordate di tenere a mente che i vostri risultati saranno molto diversi da chiunque altro perché il vostro corpo agisce in un modo molto unico, la verità è che dipenderà dal vostro metabolismo. Spero davvero che questo video vi sia d'aiuto e spero anche che il sistema Indiva vi aiuti molto a migliorare la vostra vita, proprio come ha migliorato la mia autostima.